La prima assemblea pre-congressuale, perché il congresso vero e proprio nazionale ci sarà a Rimini la settimana prossima, è qui a Domenia. Intanto è una scelta non casuale questa? Certamente, è una scelta non casuale per due motivi. Il primo è quello che Domenia è una città che andrà a breve alle elezioni amministrative e quindi noi ovviamente riteniamo che sia in questo momento un po' il centro della provincia da questo punto di vista. Noi qui stiamo lavorando insieme ad altri alla formazione di una lista civica di sinistra. Non presenteremo una lista di partito, ma saremo certamente presenti nel lagone elettorale. Il secondo motivo è che, diciamo, è negativo, ma purtroppo è dalle macerie che bisogna cominciare a ricostruire Domenia e il Cusio mi sembrano emblematici della devastazione che la crisi economica ha portato in questo Paese. Ma non ci sono già troppi partiti a sinistra? Sì, ce ne sono anche troppi. La nostra ambizione era di farne uno solo a sinistra del PD, naturalmente, che noi riteniamo che, per ovvie ragioni, negli ultimi anni abbia dimostrato di allontanarsi sempre di più da una visione alternativa della società e del sistema di potere economico che governa il mondo. Quindi noi riteniamo che ci sia un enorme spazio a sinistra, a cui pochi guardano. E il nostro compito difficilissimo sarà quello di attrarre l'attenzione di tante persone che hanno bisogno, magari senza saperlo, di una nuova sinistra. Non è che sinistra italiana, questo nuovo soggetto politico, rischia di fare ancora più confusione? No, noi pensiamo che sia indispensabile avere un punto di riferimento a sinistra preciso, che tenga la barra dritta su che cosa vuol dire essere di sinistra oggi.